Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti a partire sul mio canale, io sono Maglus, siamo sempre qui sul film 20 carriera allenatore crotone abbiamo diversi obiettivi da dover raggiungere quest'anno, visto che alcuni sono anche di priorità più alta naturalmente ho passato il video qua stendo su, un bel commento, un bel mi piace allora, innanzitutto un piccolo sguardo che generalmente non vi mostro quasi mai però è importante perché io non so se quasi rischia anche di essere cacciati è vero che dobbiamo vincere, però se non vinciamo sono sempre quelle ho visto che la crescita dei giovani spesso e volentieri non la considero quest'anno è considerata come obiettivo abbastanza alta termina con un margine di guadagno di 250.000 dovremmo farcela considerando sempre il fatto che adesso siamo in dirittura di arrivo per ciò che riguarda il mercato per cui dovremmo anche, come dire, spendere perché ormai ci siamo resi conto che in pratica se non spendiamo secondo me il salto di qualità, proprio quello sensazionale, non lo facciamo per cui ci dedichiamo un attimo alla crescita allora vuoi la dirigenza, un momento, perché è importante ah, addirittura, tutte semplici, vabbè, tra l'altro adesso si apre il mercato quindi penso che ci diranno che, faccio conto mensile, allora, seconda, finale no sì, ho chiesto naturalmente anche notizie su video, informazioni importanti valore, attiva un giocatore del contatto di meno alle sue condizioni ok, perché potrebbe naturalmente essere o potrebbe, potremmo naturalmente fare un grande ritorno il valore è 23 milioni, stipendio, ah guagna un sacchissimo, eh, porca miseria è diventato un 81 accelerazione l'anno scorso, ve lo ricordate bene, col Perugia ci portò veramente tanto bene, riuscimmo a fare grandi risultati potremmo fare anche un buon ritorno ma se qui ci vediamo anche di giocatori, ok allora, bel lavoro salve, ma all'inizio avevamo assegnato il seguente obiettivo aumenta valore di due stagioni dovremmo fare i primi e i secondi iniziali possiamo confermare di averle raggiunti che cosa, momento grazie a aver fatto la sua crescita della squadra di Catuna a livello societario ah, ok 100% aumenta valore della stagione vabbè, ok, quindi qua stiamo a posto quindi almeno su questo, anche se le finanze ha l'anno in meno l'accordo per il presto di Han la squadra è scaduto il giocatore è di nuovo a disposizione va bene, ma è Han vabbè, dopo ce lo guardiamo un attimo Yo-Yan ha scaduto il contratto anche lui è scaduto Yang Feng anche lui è scaduto ah, Markovic lui è rientrato ma il Markovic ci riusciamo poi va a venderlo Xiao ha anche scaduto dobbiamo sistemare un po' di giocatori interesse per Li ha ricevuto un'offerta pari a 50 ognuno l'ha saputo che Kang Li è stato contattato dalla squadra Liverpool le informazioni della squadra sono stati 54 milioni Kang Li dovremmo vedere se lo riusciamo naturalmente a prendere vabbè, ci stiamo un pochettino incartando c'erano anche altre cose sbaglio chat giocatore no inizierei da subito con una bella vittoria così ci sistemiamo subito giochiamo naturalmente facendo riposare il nostro Ames che sta giocando veramente malino Ranieri mi sta giocando veramente tanto bene e poi vorrei fare un cam oh ma ne sta giocando bene me lo voglio portare sicuramente però dobbiamo sempre vedere poi come si comporta volevo portarmelo Markovic ma mamma mia qui i cadaveri abbiamo da questa parte Godin me lo voglio portare eventualmente lo facciamo giocare la carta dovrebbe essere una partita facile per cui stiamo attenti oh ma adesso non ha detto niente se n'è andato senza fare nessun tipo di complimento niente non è stato diciamo abbastanza eh no barbutto non devi essere meno egoista però però se no che si fa vedere ok agi ah porca miseria e non mi è piacito come si è andato ok nostra guarda che buona bravo qui a sbarcarsi no 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 parca miseria che cavolo eh è sporco ok vabbè vabbè aspetta è fuori gioco no attenzione e a safa mamma mia bravo Demensis bene male era un po' che non segnava Demensis un po' tantissimo veramente guarda che c'è Enzo che potrebbe andare niente guarda Enderson talisca è talisca è talisca sì no siamo un po' troppo sprecanti attenzione attenzione vaiaci allora no occhio vedete a mano vabbè non lo so non è che ho guardato bene comunque attenzione perché una zona è pochissima dai ma che c'hai perché sei così lento oggi queste partite le odio a morte vai vai ehi se barbut quando la piglia la testa barbut cioè questo ho giocato a 10 ho giocato a 1 age è forte non c'ha fortuna non c'ha fortuna age c'è un po' di pressing vai Enzo vai Enzo vai Enzo vai bellissimo Mane bravo Mane bravissimo che grande giocatore 29 anni 29 anni è un 74 se non mi sbaglio questo è un giocatore veloce bravino c'ha un culo tremendo eh è forte dai ma che sfortunato guarda che botta bravo Mane bravo un gioiellino un gioiellino vai Codino ma Codino che ci fai qua scusami andiamo ce ne forza andiamo Enzo vorrei far segnare Esposito ok bravo Esposito ci vuole il suo culo avete notato una cosa generalmente noi non riusciamo mai a segnare subito cioè noi soffriamo 80 minuti e poi dopo segniamo vabbè meno male 3 a 0 abbiamo dimostrato di essere abbastanza compatti ce l'abbiamo fatta tra l'altro ogni tanto De Menze è stato il migliore in campo ci dai una buona notizia tipo vabbè parte la Juve ha vinto ma lasciamo vedere la Lazio per Napoli non ha giocato tipo una Roma che pareggia dai ogni tanto ci farebbe piacere anzitutto la ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande anzitutto sì perché Odigerts non ha giocato perché Odigerts sta la competizione aiuta Odigerts sta parlando in fase calante atroce infatti potrei quasi decidere vabbè imbattuto fino alla soluzione vabbè siamo sempre imbattuti abbiamo giocatori giusti perché non so sono un po' in dubbio su che cosa fa su Ames perché è un 82 però è carato tantissimo ha conato la squadra veramente mi dispiace veramente tanto giochiamo per vincere scusate che facciamo perdiamo noi per far vincere gli altri ciao addio vabbè ci dedichiamo un attimo alla crescita ufficio offerta per il trasferimento di Manet eh no ragazzi Manet purtroppo tra l'altro quanto ci offrono valore 13 ci hanno offerto 13 per cortesia ma rifiutiamo proprio alla grande cioè Manet è un grande giocatore allora ci dedichiamo un attimo agli acquisti perché dobbiamo capire bene chi dobbiamo acquistare direi vabbè è ancora l'inizio vediamo un pochettino se ci fanno tipo qualche offerta così magari vediamo ricapita anche offerta per trasferimento di Manet ancora tutti lo vogliono a Manet Manet mi interessa tanto è vero che ha 30 anni però potremmo fare una cosa aspettate da Hub dovremmo avere voglio capire tipo per esempio Ames Rodriguez quanto potrebbe valere ancora perché Ames ha la bellezza di 33 anni 81 lo vorrei mettere in lista trasferimenti perché ha 33 anni addirittura perde due punti ancora voglio vedere quanto potrebbe valere e magari speriamo di ricevere anche qualche offerta buona perché Ames mi sta un po' scadendo un po' troppo c'è anche la coppia d'arte attenzione che cosa c'è qualche offerta no Williams Williams ti facciamo attraversare un buon periodo di forma si 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 ci penserò Williams ti facciamo sicuramente giocare tranquillo attenzione che il Sassuolo è una squadra molto ma molto pericolosa l'anno scorso ci ha fatto letteralmente buttare il sangue Martinelli ti faccio giocare voglio far giocare al posto Williams se lo faccio ne posare Ames ti faccio giocare perché sei un grande perché c'è rispetto facciamo giocare Zanellato al posto di Enzo giusto per dare un po' di sicurezza e poi vorrei far giocare anche al posto di Demences però Demences si lo farei giocare anche se Crociata si incazza e va bene mi porto Agi mi voglio portare anche Godin eventualmente lo facciamo giocare lo faccio giocare di qua anche Barbuto deve entrare se non si sa mai succede qualcosa al posto di Gagnini Valucci che ci ti metto al posto di Balis va bene cerca di giocare bene perché se no qua siamo inguaiati dove sta Godin lo voglio portare eventualmente lo facciamo giocare ok mi raccomando mazza sono partiti forti abbastanza ma che non l'ho visto dico la verità cioè nel senso ha fatto addirittura cartellino giallo addirittura partiamo già così no Rodriguez no arbitro sei sbagliato vabbè ma tutto sto fallo io non l'ho visto è buona ma porca vabbè Rodriguez ma non va a messere ma mia pure ma questo è fallo però vabbè ah me n'era andato oh no perché è uscita è uscita è uscita è uscita è uscita mamma che palla bravo Van Dyke occhio occhio non c'è nessuno in mezzo non c'è nessuno dai ma però ma ha spinto sbaglio no è proprio scarso lui è proprio scarso lui dai Barbu dai Barbu dai Barbu vabbè vai Zanellato vai purtroppo Zanellato è un cadavere si vabbè fa niente dai quello uno ce ne stava vai 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 porca miseria vai ma porca perché no guarda andiamoci forza forza ce la possiamo fare vai 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 ok no Zanellato ti sei fatta anticipare andiamoci 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 oh oh si mamma mia mamma mia ragazzi mamma mia quella era fallo eh vabbè bravo Barbut bravo Zina spero che ci arrivi una buona offerta per Ames perché ormai non corre proprio più c'è 33 anni ma non ce la fa proprio è proprio veramente inchiorato per te la Roma che fa la Roma vince tra zero ma che mi devo dire il problema è questo come la chiappiamo cioè la Roma vince 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 sempre la ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni allora la squadra è imbattuta sì noi siamo sempre imbattuti c'è un motivo per cui siamo imbattuti è stato un match equilibrato fino alla fine avete trovato il gol la vittoria negli ultimi 5 minuti con un po' di fortuna è d'accordo no non sono d'accordo la fortuna non c'entra niente diciamolo abbiamo giocato nettamente meglio siete riusciti a segnare la riguola Cisli quella ribaltare risultato pensate di vincere le squadre venivano a risultare sullo stesso livello ma veramente fai siamo stati più forti bellino addio allora ci dedichiamo a una crescita sì bisogna giocare più spesso grazie mister grazie il cavolo stazione autorevole che bugia tremenda il tuo postone a rischio se giochi così ci stai rovinando la partita vabbè abbiamo il Cagliari in Coppa Italia attenzione il Cagliari ci rompe parecchio le scato ultimamente aggiornamento mensile ci abbiamo Gallo Finale 86 89 Lombardi abbiamo preso un difensore tra i ragazzini lo sto facendo un po' potenziale Stefano Russo Stefano Russo potrebbe non essere male quanti prestito quindi vabbè Coppa Italia Sposito facciamo così guardate mettiamo Williams prima punta Sposito me lo voglio un po' riservare sta giocando veramente tantissimo e potrebbe farsi male Marbuto lo facciamo giocare perché si è riposato crociata mettiamo qui Ranieri e poi a sto punto potremmo mettere dove sta quello Fang non era male lo sapete però vabbè non dobbiamo troppo rischiare perché sennò a fine che andiamo male potrei far giocare di qua e magari eventualmente facciamo qualche cambio giochiamo così però voglio mettere Aci a posto di Ames ancora esperimento questo è un grande esperimento purtroppo non abbiamo attacchianti ci serve un sostituto di Esposito questo è Ottavio stiamo in casa troppo è vero che stiamo in casa Stavio non era anticipato però te ne puoi andare te ne puoi andare mamma mia non c'è proprio salute non c'è salute però si vabbè mantinilo 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 ma che ha fatto ritacco Ranieri ritacco ritacco io non lo so se mi volete far morire vattene 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 dai porca miseria quanto è bello quando facciamo 50 azioni e non segniamo mai poi loro buttano una palla in mezzo e segnano si Enzo è buona è buona vattene crociata vattene io la volevo dare a Enzo non so perché l'ha data a Martinelli vabbè lasciamo perdere ce la puoi fare mazzo è veloce vai vabbè domani e dai andiamocene forse ce la puoi fare ce la puoi fare allora dobbiamo parlare male di Martinelli per farlo segnare guarda su quel contropiede con Barbutto ho tremato comunque tra parentesi sempre grazie a Barbutto che ha preso la palla vabbè quando ho visto che stavano uno sopra l'altro ho detto questi si contrastano e perdono la palla vabbè 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 vattene Guiliano vattene rosso-russo assa fa eh bravo Mani e dai e vai no aspetta ma non perché non si propongono questi vabbè è nostra vai dai Barbutto bravo Barbutto guarda è un grande giocatore è sempre lui guarda è sempre lui fa niente niente ok bravo Agi incredibile va dai 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 passiamo il turno con molta sofferenza ma passiamo il turno era importante vincere però cosa importante è che arriveranno sicuramente altri soldi la Roma vince Napoli pure vince vabbè anche il Torino passa Ottavi quindi dovrebbero arrivare anche altri soldi il che significa che settimana prossima cioè prossimo episodio dovremo dedicarci agli acquisti e ora vediamo un attimo però per aver accettato di parlare ai nostri micropoli questa vittoria si è avversa al prossimo turno di Coppa Nazionale crede di poter vincere il torneo certo che si noi puntiamo a vincere il torneo si è riuscita a vincere un match combattuto grazie a un gol nella ripresa cosa ha fatto la differenza secondo lei abbiamo giochato meglio Akblut è stato tra i migliori in campo qual è stato difficile segnargli non è stato facile ma che è portiere penso di sì vabbè andiamo avanti nel frattempo vi faccio vedere che siamo sempre a 7 punti dalla Roma perché la Roma non molla niente manco un centimetro cioè vi dico soltanto questo al terzo posto ci stanno Crotone Inter e Napoli tutti a 41 sarà un campionato veramente stebitoso che vuole la differenza offerta siete interessata a Valucic niente di meno 76 milioni per Valucic e raga e qua vado un po' in difficoltà 76 milioni Valucic non mi fa per niente impazzire di Chaco mi sta proprio qua sopra gioca anche abbastanza male secondo me per 76 milioni secondo me potremmo anche cederlo e magari prendere un giocatore molto più forte vi faccio vedere un pochettino il budget perché ci abbiamo 130 milioni gli acquisti quali possiamo fare tranquillamente vabbè ci vediamo nel prossimo video vai ciao